Un'acquazzone improvviso, in pochi minuti le strade sono così diventate fiumi di acqua e fango. Una violentissima bomba d'acqua si è abbattuta infatti a Cortona, in provincia di Arezzo, nella serata di martedì, a farne le spese soprattutto all'abitato di Terontola. Una vera e propria emergenza, in una manciata di minuti infatti garage, scantinate e taverne sono finite sott'acqua. Circa 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco e del Comando Provinciale, soprattutto per allagamenti in casa. Soccorsi anche i tre automobilisti con i loro mezzi rimasti in panne a causa dell'acqua. 5 le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da tutta la provincia, lavorano sul posto. In volo anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco per monitorare dall'alto i punti più critici su cui intervenire. La pioggia scrosciante ha ovviamente creato numerosi disagi anche sulle strade, in particolare sulla regionale 71, dove a causa di smottamenti e sollevamenti di asfalto è stato necessario rallentare il traffico, convoiando in un'unica corsia senso alternato con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. L'allerta meteo di Codice Giallo, diramata dalla Sala Operativa della Protezione Civile, infine prosegue sino alla mezzanotte di mercoledì.